Il nuovo decisivo step è compiuto verso la realizzazione di un complesso residenziale da 12 alloggi, canone sociale agevolato da costruire nella frazione di Tez di Arzignano. L'azienda Atter Vicenza ha approvato la scorsa settimana il progetto definitivo e nella pratica reso ora anche esecutivo. La firma al documento vale di fatto come via libera all'assegnazione dei lavori, facendo seguito al protocollo d'intesa siglato nel 2018 tra l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale del comune di Arzignano, costo dell'opera stimato 2 milioni e 13 mila euro, interamente a carico dell'istituto con sede in via Battaglion Framarita nel capoluogo Berico. La nuova palazzina sorgerà su tre piani in un loto di terreno località Mure, dedicato al servizio a favore delle fasce più deboli, concesso a titolo gratuito dall'amministrazione comunale secondo i termini d'accordo con mutuo beneficio, quindi per i contraenti, sarà realizzata dall'azienda con partecipata Vicentina su uno spazio di 2.458 metri quadri complessivi con potenzialità edificatoria di massimo di 5.351 metri cubi.